Malviventi intercettati prima di fare eruzione nell'ufficio postale, nel conflitto a fuoco con la polizia, ferito gravemente un rapinatore, è accaduto stamane a Montoro, 74 anni, raggiunto in casa da un colpo di striscio, 4 gli arresti. Questo non è mio figlio il drammatico scambio di persone avvenuto nel caso dei due ragazzi intossicati dal monossino in un residence di Segrate, a perdere la vita Francesco Mazzacane e non il suo compagno Pietro Caputo, ricoverato in gravi condizioni. Sono indagati anche i vigili del fuoco, alcuni in posizione di vertice, tra le otto persone indagate dalla procura di Napoli, voti a far luce su un giro di concessioni rilasciate dietro compenso, agevolate aziende ed imprese. Passa operazione della polizia contro la pirateria audiovisiva, l'indagine ha fatto luce sul 70% di streaming illegale nazionale che coinvolge altre 900.000 autenti coinvolte in tutte le province campane. Dopo le polemiche ora c'è la data di accensione, l'UCI d'artista a Salerno inizierà il 2 dicembre, la spettacolare esposizione d'arte luminosa durerà fino al 31 di gennaio. Stasera a Polis tra politica e attualità le interviste ai candidati alla presidenza della provincia di Salerno, Franco Alfieri PD e Sonia Alfano FDI. La sfida sarà decisa dalle urne il prossimo 20 novembre. In onda alle 15 la puntata nel format di Prima TV dedicata a Marina Grande di Sorrento resiste il fascino antico e romantico del Borgo Marinaro, già set dell'indimenticato film Pane Amore E. Un evento esclusivo nel segno delle eccellenze del territorio per coloro che ricercano qualità e professionalità. Domenica è la parte di Ruggero Home nello showroom dei Cesinali in provincia di Avellino per rappresentare il nuovo concept store con amici, clienti e professionisti del settore. Ben ritrovati amici di Mondo Relax. Oggi siamo qui con un'offerta mai vista prima. Abbiamo realizzato la poltrona Italia, disponibile in diversi rivestimenti e colori a scelta. Approfittate dello sconto e avrete la poltrona Italia a soli 209 euro. Tutte le poltrone Mondo Relax sono dotate di motori indipendenti. Così potete alzare soltanto la pediera lasciando lo schienale dritto. Oppure riposare nella posizione letto. Chiamateci subito. Mondo Relax. Garanzia di benessere e qualità. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Prima TV. In apertura la cronaca. Malviventi intercettati prima di fare irruzione nell'ufficio postale. Nel conflitto a fuoco con la polizia ha ferito gravemente. Un rapinatore è accaduto stamane a Montoro in provincia di Avellino. A 74 anni era giunto in casa da un colpo di striscio. Quattro gli arresti. In quattro armati di pistole mitra con i volti travisati da bassa montagna avevano messo nel mirino l'ufficio postale di Piano di Montoro. L'assalto programmato per le otto di stamane è stato sventato dagli agenti di polizia che dopo averli intercettati a bordo di tre auto li astretti nell'area di vita parcheggio in via Ambrosoli. In pieno centro, vistisi scoperti intrappolati in un imbuto di asfalto, i banditi hanno reagito all'alto intimato dagli agenti innescando un serrato conflitto a fuoco. Scene da far west a pochi metri da un asilo. In un clima di altissima tensione e paura. Una pioggia di piombo che ha tenuto in apprezzione i residenti per ore e sotto scacco commercianti e passanti in transito nella zona. Almeno una trentina i proiettili sparati segnalati a terra dalla squadra della polizia scientifica. Nel corso della sparatoria un bandito, un 51enne della provincia di Napoli, è stato raggiunto da due colpi sull'asfalto e il suo passamontagna. E i proiettili schedati dagli investigatori al punto soccorso dell'ospedale Moscati, il bandito è stato trasportato da un'ambulanza del 118 in codice rosso. Le sue condizioni sono state giudicate dai sanitari gravi. Un proiettili ha attinto anche un 76enne pensionato intento a prepararsi il caffè al primo piano del suo appartamento. L'uomo è rimasto ferito lievemente alla spalla sinistra da un colpo di rimbalzo. Tre, i colpi di pistola che hanno raggiunto l'abitazione del pensionato. Poteva essere una tragedia. Sul posto la squadra mobile che ha seguito tutti gli accertamenti di rito nel tentativo di definire la dinamica dell'accaduto. Sentiti anche alcuni testimoni che hanno assistito all'arrivo della colonna di auto dei rapinatori a Montoro. I malviventi sarebbero tutti dall'Interlanda napoletano in trasferta in Irpinia. Per centrare il colpo grosso alle poste di piano, gli uffici postali hanno proseguito la loro attività all'ingresso dell'istituto. Ovviamente teneva a banco la drammatica notizia della sparatoria e l'assalto sventato dalla polizia. Un ride che poteva provocare conseguenze ben più gravi visto la determinazione dei rapinatori, per nulla intimiditi dalla presenza delle forze dell'ordine sotto shock commercianti e cittadini. Oramai non si può andare avanti più così, un rischio, un asilo quaterno, un asilo comunale, un mercato, comunque un anziano che passa la mattina, guarda oramai non si vive più. Questo non è mio figlio. Lo scambio di persona avvenuto nel caso dei due ragazzi campani intossicati dal monossido di carbonio in un residence di Segrate a perdere la vita Francesco Mazzacane e non il suo compagno Pietro Caputo. Il caso di Segrate ha avuto un risvolto ancora più crudele. Lo scambio di persona da cui è emerso che a perdere la vita intossicato dal monossido di carbonio non è stato Pietro Caputo che verse in gravi condizioni, ha fatto bene fratelli, in una camera iperbarica, bensì Francesco Mazzacane. Un dramma che diventa una doppia tragedia, un risvolto inaspettato per due famiglie, una di Torre Annunziata, l'altra di Torre del Greco, sconvolte. Uno scambio di identità che si è svelato solo al riconoscimento da parte della mamma del giovane deceduto ieri all'obitorio. La vicenda è di due ragazzi che avevano deciso di costruire la loro vita al nord. La tragedia si è consumata mercoledì in un residence di Segrate, dove i due giovani risiedevano da qualche giorno. Sin dalle prime ore era stato comunicato che il giovane deceduto era Pietro Caputo, 21enne di Torre Annunziata, il suo amico salito da poco a trovarlo a Milano, il 24enne di Torre del Greco, Francesco Mazzacane, era invece ricoverato in gravi condizioni. In realtà, dopo un controllo effettuato dai carabinieri, l'errore del personale del 118, involontario per la concitazione del momento, che aveva ritrovato sul comodino della stanza da letto della parte del ragazzo deceduto i documenti di Pietro. Lo scambio di identità è stato svelato dalla madre di Pietro, chiamata a riconoscere il figlio, che dallo shock è svenuta. Nella camera iperbarica, infatti, c'è Pietro all'obitorio, il povero Francesco. Lo shock della famiglia del 24enne, arrivata all'ospedale, fate bene i fratelli per pregare per le sorti del figlio, invece ritrovato morto. Intanto la procura di Milano, che sta indagando sulla perdita di monossido, che sembra sia partita dal vano caldaia diacente all'appartamento in cui soggiornavano i due ragazzi, per omicidio colposo e lesioni colpose a carico di ignoti. Ci sono anche vigili del fuoco, alcuni in posizione di vertice. Tra le otto persone indagate dalla procura di Napoli, volte a far luce su un giro di concessioni rilasciate dietro compenso, agevolate aziende ed imprese. Figurano anche vigili del fuoco, qualcuno con posizione addirittura di vertice a livello regionale, un imprenditore e professionisti, tra le otto persone indagate dalla procura di Napoli nell'ambito di un'attività investigativa che punta a far luce su un giro di concessioni rilasciate dietro compenso. Gli inquirenti, che hanno disposto una serie di perquisizioni, contestano a vario titolo reati contro la pubblica amministrazione. Associazione a delinquere, corruzione è falso. Gli accertamenti dei magistrati puntano a far luce su sopralluoghi e conseguenti pratiche e progetti sospetti, ai cui sarebbero seguiti verbali compiacenti redatti dietro compenso. A beneficiare di queste attività sarebbero state aziende e imprese che attraverso questo illecito modus operandi venivano agevolate. Le indagini riguardano anche un'azienda che si occupa della manutenzione degli estintori, la quale sempre secondo gli inquirenti sarebbe stata messa in piedi da alcuni vigili del fuoco in violazione delle normative vigenti. Gli trovano bustine di droga nell'auto e scoprono che il padre del trentenne è arrestato e un finto dentista che esercitava la professione senza avere alcun titolo. L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Nell'ambito della costante attività di prevenzione e di controllo economico del territorio messa in atto dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli sono stati intensificati i servizi tesi al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti sul territorio partenopeo. Lo sviluppo del dispositivo ha portato al sequestro, nella giornata di ieri, di hashish marijuana di una piantagione di cannabis che avrebbe fruttato allo spaccio circa 5 milioni di euro. Nel corso di un primo intervento, dopo un'autonoma attività info-investigativa svolta dalle fiamme gialle del gruppo di Giuliano in Campania con l'ausilio degli elicotteri del reparto operativo aereo navale di Napoli, è stata individuata una vasta area di vita a piantagioni di cannabis. Sul terreno agricolo, situato nell'agro Capuano, sono state rinvenute sottoposte a sequestro 378 piante di oltre 2 metri di altezza destinate all'estrazione di marijuana, già mature e pronte per il raccorto, la successiva essiccazione delle infiorescenze e il confezionamento delle dosi destinate ad alimentare il mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sul posto, dotato di un sistema automatico di irrigazione, erano presenti anche numerosi sacchi già pronti per lo stoccaggio e il trasporto delle piante. La sostanza stupefacente del peso complessivo di 400 kg avrebbe fruttato, se emessa nel mercato illegale, circa 5 milioni di euro. Nel corso degli accertamenti è stato identificato un cittadino di origine straniera, poi tratto in arresto perché presente sul territorio in violazione della normativa sull'immigrazione. I militari della compagnia di Pozzuoli, durante un secondo intervento, hanno rinvenuto all'interno di un'abitazione oltre 4,5 kg di marijuana, circa 400 g di hashish, 64.000 euro in contanti, oltre agli strumenti utilizzati per la preparazione delle dosi. L'attività è scaturita dal rinvenimento poco prima nell'auto del responsabile di quattro bustine di marijuana hashish occultate sotto il sedile del passeggero, da cui è scaturita la successiva perquisizione di due abitazioni nella disponibilità dello spacciatore. In una delle due unità abitative era stato inoltre allestito uno studio dentistico abusivo di circa 60 metri quadri, completo di attrezzature, dove il padre del soggetto esercitava la professione dentistica senza alcuna abilitazione. Al termine delle attività, i militari hanno tratto in arresto irresponsabile, già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti, sequestrato la sostanza, il denaro contante, la vettura, nonché segnalato il padre all'autorità giudiziaria, per esercizio abusivo della professione di dentista e sequestrato lo studio medico abusivo. Basta operazione della polizia contro la pirateria audiovisiva. L'indagine ha fatto luce sul 70% di streaming illegale nazionale che coinvolge oltre 900.000 utenti lungo l'intero territorio nazionale e un giro di affari milionario questa notizia ed altre nel prossimo servizio dedicato alla cronaca. Basta operazione della polizia contro la pirateria audiovisiva. Le indagini sono partite da una disposizione da parte della procura distrettuale di Catania, ma le autorità hanno proceduto in tutta Italia con perquisizioni e sequestri rivolti ad un'associazione per delinquere di carattere transnazionale. Nella nota pubblicata la polizia di Stato si legge inoltre che attraverso l'indagine si è fatto luce sul 70% di streaming illegale nazionale che coinvolge oltre 900.000 utenti lungo l'intero territorio nazionale e un giro di affari milionario. I centri operativi di sicurezza cibernetica della polizia postale hanno proceduto con le indagini sull'intero territorio nazionale al fine di bloccare le attività fraudolente da parte dell'associazione ancora non meglio dettagliata dalle autorità. Sono diverse le città interessate alle perquisizioni nella lunga lista diffusa la polizia che va da Novara fino a Siracusa ci sono anche Avellino, Benevento Napoli e Salerno. È stata dimessa all'ospedale Santo Bono di Napoli la bimba di due anni che lo scorso 30 ottobre era stata lanciata dalla finestra dal padre a Fisciano in provincia di Salerno. La piccola operata per la frattura ad un braccio nei giorni scorsi è rapidamente migliorata ed è stata affidata alla madre al nonno materno. Sospesa la potestà genitoriale per il padre che al momento si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Il quarantenne che già nelle fasi immediatamente successive aveva confusamente ammesso le proprie responsabilità nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha raccontato al GIP di aver agito perché spinto da una voce a suo dire quella di Dio che gli avrebbe detto di lanciare la bambina dalla finestra per salvare il mondo che gli avrebbe assicurato che la piccola non sarebbe morta. Una vasta piantagione di cannabis che avrebbe consentito la produzione di marijuana e hashish per un valore di 5 milioni di euro è stata sequestrata alla guardia di finanza di Giuliano in Campania con l'ausilio degli elicotteri del reparto operativo aereo navale di Napoli. Le fiamme gialle l'hanno individuata nell'agro Capuano dove sono state sequestrate 378 piante di oltre 2 metri di altezza. La sostanza stupefacente del peso complessivo di 400 kg avrebbe fruttato se messa sul mercato illegale circa 5 milioni di euro. I finanzieri hanno anche identificato uno straniero che al termine dei controlli è stato arrestato per violazioni sulla normativa dell'immigrazione. I carabinieri hanno posto sotto sequestro tre canili dislocati nei comuni di Marigliano e Brusciano nei confronti dei gestori delle tre strutture è stato contestato il reato di maltrattamenti di animali. I canili infatti ospitano circa 390 cani randaggi accalappiati in vari comuni della provincia di Napoli del Casertano e dell'Avellinese e molti dei quali presentavano evidenti segni di abbandono. Nove cani si presentavano palesemente malnutriti e con varie gravi patologie e sono al momento sottoposti ai cosiddetti controlli medici di primo e secondo livello visto il loro stato di salute a dir poco precario. Uno sciopero di quattro ore che ha bloccato gli spostamenti dei pendolari a Napoli ma anche in tutta la campagna con ogni giorno soffuriscono del trasporto pubblico forti disagi nonostante le fasce orarie garantite. Come era stato annunciato nei giorni scorsi questa mattina i lavoratori e le lavoratrici dell'ente autonomo Volturno hanno incrociato le braccia fermando i convogli al capolinea in protesta. C'è chi è riuscito ugualmente ad arrivare alla stazione di Porta Nolana senza in Tù e chi invece ha subito riscontrato alcune difficoltà. Io che sono abituata che vengo da Avellino dove c'è sempre un'alternativa vengo qui e mi trovo impossibilitata all'andare attorno del Greco arrivo qui e sciopero non ci sono alternative non ci sono indicazioni se non mi mettevo io adesso a circolare e sapevo che c'è appunto un altro Pullman che viene attorno del Greco io non lo sapevo. Sicuramente per noi può essere un disagio specialmente nel momento in cui vieni da parte lontane e devi raggiungere Napoli. La manifestazione organizzata da Will Transport e Faisa Conf e l'USB e Orsa protesta per le modifiche unilaterali e l'organizzazione del lavoro da parte dell'azienda nel settore manutenzione e infrastrutture oltre che per l'organizzazione del lavoro e dei turni per le problematiche del settore circolazione e divisione ferroviaria e per rivendicare la cancellazione degli aumenti delle tariffe servizi ed energia ma in merito alla contestazione ascoltiamo le parole di Luca Delprete e Maurizio Permatteo rispettivamente segretario provinciale e delegato del sindacato Orsa c'è un accontento vastissimo su quelli che sono gli approcci e questo è un modo di lavorare e quello che è oggi un sistema spinto fortemente innovativo e che non ci sono attualmente le condizioni per attuare quei programmi per il quale nuova classe dirigente che si sta costituendo che è proveniente da Trenitalia vorrebbe imporre ai lavoratori vogliamo riaffermare gli standard di sicurezza che nell'ultimo periodo in questa azienda si sono un attimino persi all'ordine del giorno sono all'ordine del giorno inconvenienti ferroviari incidenti e quant'altro noi vogliamo venire al lavoro e vogliamo tornare a casa in perfetta sicurezza questo purtroppo nell'ultimo periodo è diventato una chimera a neppure un'ora dall'inizio della protesta fanno sapere fonti interne all'orsa l'EAV ha messo in atto una risposta assolutamente fuori dai canoni i lavoratori della stazione di Barra oggi avrebbero incrociato le braccia per lo sciopero assicurando così l'interruzione della circolazione dei treni sulla linea per Sorrento dai piani alti dell'azienda però avrebbero deciso di non rispettare il diritto allo sciopero dei dipendenti deviando i treni diretti verso la penisola sorrentina per il centro direzionale e annullando di fatto così lo sciopero dei dipendenti si tratta di una gravissima mancanza di rispetto ha commentato Maurizio Piermatteo un'azione per la quale il sindacato auspica risposte decise dopo le polemiche ora c'è la data di accensione luci d'artista a Salerno inizierà il 2 dicembre la spettacolare esposizione d'arte luminosa durerà fino al 31 gennaio 2023 saranno accese venerdì 2 dicembre le luci d'artista di Salerno la spettacolare esposizione d'arte luminosa nei parchi piazze strade cittadine durerà fino alla fine del mese di gennaio 2023 numerose novità di questa edizione con nuove installazioni e tanti eventi collaterali di cultura spettacolo e shopping come fin dalla prima edizione le lampade saranno a led a basso consumo energetico luci d'artista Salerno organizzata dal comune con il sossegno la regione Campania è una delle manifestazioni più popolari ed attese il periodo natalizio l'evento genera oltre che un clima di festa ed allegria importanti ricadute economiche ed occupazionali per il territorio nei prossimi giorni saranno illustrati i contenuti il programma e la logistica dell'evento hanno fatto sapere da Palazzo di Città ritorna questa sera all'appuntamento con Polis tra politica e attualità ci occuperemo delle elezioni per la presidenza della provincia di Salerno dalle 21 in programma le interviste ai candidati in campo Franco Alfieri del PDS Sofia Sonia al Fano di Fratelli d'Italia la sfida sarà decisa dalle urne il prossimo 20 di novembre stasera nel corso della puntata anticipiamo i programmi dei candidati botta e risposta e le prospettive politiche e ora vi lascio una breve pausa ma restate con noi per la seconda parte del telegiornale a tra poco ben ritrovati per la seconda parte del telegiornale Lupo di Mare fa tappa a Marina Grande di Sorrento in onda alle 15 la puntata del format di Prima TV dedicata alle bellezze del territorio campano resiste il fascino antico e romantico del Borgo Marinaro già set dell'indimenticato film Pane Amore e il Paradiso Blu di Marina e i suoi suggestivi scorci fecero innamorare anche Sofia Loren appuntamento dunque alle 15 con Lupo di Mare su Prima TV Un 23enne è stato gravemente ferito da un colpo di pistola alla testa in un agguato scattato nel rione Traiano di Napoli il giovane è stato portato all'ospedale del mare dove si trova ricoverato in pericolo di vita Un giovane di 23 anni è stato gravemente ferito in un agguato scattato nel rione Traiano di Napoli la vittima si chiama Antonio Artiano soprannominato Anthony è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco che l'ha raggiunto alla testa in via Marco Aurelio il giovane è stato portato nell'ospedale del mare dove si trova ricoverato in pericolo di vita l'agguato è avvenuto intorno alle 19 di ieri sera il 23enne ferito e figlio di uno degli uomini di fiducia di Antonio Scognamiglio soprannominato Tonino Parente elemento di spicco della criminalità organizzata locale quello di ieri sera è il secondo ferimento che si registra nella zona del rione Traiano di Napoli nel giro di 48 ore martedì scorso è toccato un altro giovanissimo si tratta del 19enne Fabio Volpe ritenuto dagli investigatori vicino al clan Vigilia Volpe è stato centrato da un colpo d'arma da fuoco allo zigomo ed è vivo per miracolo agli inquirenti è riuscito a raccontare la dinamica dell'accaduto un evento un evento esclusivo nel segno delle eccellenze del territorio per coloro che ricercano qualità e professionalità domenica il party di Ruggero Home nello showroom di Cesinale in provincia di Avellino per rappresentare il nuovo concept store con amici clienti e professionisti del settore Un evento esclusivo nel segno dell'eccellenza del territorio per coloro che ricercano qualità e professionalità in una cornice stilistica sostenibile e all'avanguardia Ruggero Home azienda storica erpina nata negli anni 80 da Mario Ruggero che prosegue oggi insieme al figlio Antonio ha organizzato per domenica party showroom tra design e nuove tendenze per presentare ad amici clienti e professionisti del settore il nuovo concept store e presentare le novità di stagione 2022-2023 Antonio c'è una data importantissima il 13 novembre il 13 novembre che cos'è? presenteremo il nostro showroom faremo un evento speciale il 13 novembre un party un party il 13 novembre alle ore 17 presso il nostro showroom dove con la collaborazione dei Favati cantine Favati un'azienda mitivinicola pluripremiata e prima di tutto amici di famiglia del territorio del paese e presenteremo tutte le novità della stagione 2022-2023 passando da quelle che sono le piastrelle all'area do bagno e a tutto quello che noi abbiamo esposto qui quindi noi passeggeremo per lo showroom sosteggiando bollicine bollicine chiacchierando conoscendo e forse mettendo la prima pietra di un progetto gettiamo le basi per poi venire comodamente qui sederci e progettare e progettare quello che vogliamo la nostra casa dei sogni è vero assolutamente ci sarai tu ci sarà tua moglie ci sarà mio padre ci sarà mia madre ci sarà tutto il team ci saremo tutti tutti noi e a disposizione di qualsiasi domanda di qualsiasi chiarimento e forse riusciremo a dare qualche bella idea ecco sarà l'occasione non solo per chiacchierare ma il team è pronto per affiancarci per accompagnarci in questa passeggiata si sta preparando duramente da tanto tempo sì assolutamente c'è tanta emozione penso dopo tanti anni si riprende finalmente c'è tanta emozione sì tantissimo a rincontrare amici nuovi amici nuovi amici vecchi amici chi ci ha seguito fino oggi e chi ci vorrà seguire domani ci vediamo allora il 13 novembre allora 17 qui accessi Ruggero Home vi aspetta e vi ricordo l'appuntamento dedicato con lo speciale per le ore 19 all'evento di domenica di Ruggero Home e con questa notizia si conclude il nostro telegiornale vi lascio lo sport grazie per essere stati con noi arrivederci a tutti la notizia